Una travata utilizzata come deposito attrezzi agricoli e fenile si è incendiata nella notte di giovedì 15 agosto, poco dopo le tre e mezza, presso una cascina situata in via Ivrea, frazione San Giovanni a Castellamonte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, Ivrea, Rivarolo Canavese, Guarnier, San Maurizio Canavese e Mati. Le squadre hanno domato e spento l'incendio lavorando per oltre quattro ore. Purtroppo il fuoco ha divorato tutto, trattori, mezzi agricoli e macchinari vari, rotoballi di fieno. Ingenti i danni, non sono stati registrati feriti e intossicati. Sul posto anche i carabinieri. Grazie a tutti.